Oggi la Lega in Consiglio regionale presenta la risoluzione per la richiesta dello stato di emergenza sulla situazione della strada statale 16, situazione che sta diventando giorno dopo giorno sempre più difficile. Sì assolutamente, col passare dei giorni anche il carico di problemi e di preoccupazioni che devono sopportare le comunità e le amministrazioni comunali coinvolte diventa davvero insopportabile anche perché purtroppo non vediamo ancora la fine di questo tunnel, la luce per risolvere questo problema. Per cui adesso bisogna cominciare a dare anche delle garanzie a queste popolazioni non soltanto che questa emergenza passerà ma soprattutto che i danni che sta provocando in qualche modo possono essere risarciti perché veramente già abbiamo la percezione di danni tangibili alle attività commerciali, alle infrastrutture viarie cittadine e poi c'è anche il problema della salute di questo smog che i cittadini cominciano ad avvertire in modo pressante. Anche domenica scorsa quando abbiamo svolto una manifestazione pacifica insieme ai sindaci e alla popolazione questo aspetto è emerso con grande evidenza. Quindi è evidente che noi chiediamo questo impegno per il tramite il Presidente al Governo affinché la nostra provincia non venga lasciata sola, chiediamo celerità nella risoluzione del problema e poi anche una presa di coscienza rispetto ai danni creati e alle risposte che le cittadinanze di Silvi, di Pineto, di Montesilvano e di Città di Sant'Angelo aspettano. Naturalmente la nostra è stata una sommaria valutazione che poi dovrà essere svolta da chi dovrà evidentemente calcolare con esattezza. Noi abbiamo fatto una stima preventiva e presuntiva che potrebbe essere anche per difetto, per eccesso, però è un modo per far capire che il danno che si è creato è un danno veramente enorme e che forse fino ad oggi è stato sottovalutato perché ci si preoccupa giustamente delle difficoltà viarie che incontriamo giornalmente. Io stesso sono capitato venerdì nel caos che è successo più a nord sulla 14 nel versante Ascolano e è bastato un solo giorno lì che è successo il finimondo e quello che lì è successo un giorno da noi ormai si sta verificando da settimane. Quindi questo per far capire che la situazione è veramente seria e preoccupante e noi ci aspettiamo dallo Stato, dal Governo e dalla società che gestisce il raccordo autostradale delle risposte chiare e non elusive ed evasive. Grazie a tutti.